No, era peccato perché perdiamo una partita che potevamo vincere per delle grandi intensità e sapevamo della pericolosità dei loro esterni, hanno fatto un attimo lavoro su Bartley, meno su Washington, meno su Norris, meno su Snind, hanno pescatto due giocatori che erano fuori delle rotazioni, la lontana e i due carezzi di Risma che alla fine sono stati pesantissimi, purtroppo abbiamo peccato di qualche acquismo di troppo, di errori percentuali da due punti oggettivamente troppo bassi e questa è la partita. Per noi, onestamente, dovremmo fare sicuramente meglio nell'uno contro l'uno difensivo e nella difesa della palla del picarrova perché non siamo stati consistenti in questo ceramento. Un po' più domanda? No, grazie a te. Non devo dire duramente l'importanza della gara di oggi ma saranno tutte così fino alla fine stagione. Quindi oggi, ovviamente, lo desideriamo, lo combattiamo e succediamo al final, quando scuoviamo 89 punti, noi succediamo in nostra difesa e per questo è un po' più 12 punti. all'attacco di Trento e questo ha fatto pulire l'interesse. Grazie a tutti i miei giocatori, soprattutto a coloro che nella panchina oggi hanno dato una grande mano e poi anche un ringraziamento ovviamente al pubblico che ci ha sostenuto. Non era facile oggi giocare contro Trento, nonostante hanno buoni giocatori e giocano anche senza pressione, questo gli ha permesso anche di avere buone percentuali, soprattutto per tre quarti. Quindi una vittoria ancora più importante per questo. Per noi era molto importante che abbiamo reagito all'interno, in un momento cruciale, per giocare la migliore difesa e per essere responsabile per la linea. Un altro aspetto importante appunto è quello di aver terminato bene la partita quando nei momenti cruciali eravamo sotto pressione, sia attraverso una buona difesa, sia delle buone percentuali anche dei liberi. Grazie. Qualcuno ha altre domande? Forza domenica, lei si era lamentato perché era arrivata alla fine della partita con la squadra cotta. Poi guardando le statistiche abbiamo visto che mancavano tre giocatori all'appello che non aveva schierato, questa terra invece ho visto che ha dato spazio soprattutto a quei giocatori che la scorsa partita non hanno giocato e che dal lato ne hanno dato molto e quindi alla fine la squadra è sembrata più fresca. Bizzera, condivide questa analisi. Guarda qui. Grazie. Ecco, prima cosa, la cosa che ha detto, come non c'è così assolutamente, perché la lotta di questo, come se avversa? Buon male. Eh, chi ha detto che ci sia un'esercizio che la scorsa che si aziende, hanno dato un'esercizio del loro? Un'esercizio? Non c'è così. Quando ci ha detto, nemmeno ciò che si assomino, in questo caso di queste ragazze. ma devi sapere che ogni game è diverso, non è la stessa per ogni game prima di tutto, in questo game, noi controlliamo il peso del game e tutto è tutto ok, anche quando stiamo in una piccola rotazione ma in fine, quando stiamo a perdere, tutto si sembrava wrong quindi questo è il momento in il game che si senti qualcosa o non ma ovviamente, abbiamo bisogno di più giocatori, non solo questi 3 se abbiamo 10, 11, tutti giochi ok, naturalmente oggi abbiamo vinto e è merito anche dell'apporto di questi 3 giocatori ma non è tanto importante, ogni partita è differente dipende anche dagli avversari, oggi abbiamo controllato bene la partita e quindi abbiamo avuto un buon apporto anche tutti gli altri ovviamente noi abbiamo bisogno di tutti gli uomini in rotazione non solo questi 3 ma anche tutti gli altri però oggi la partita ci dirigeva a questo abbiamo sentito questo feeling anche con questi giocatori in attrazione alla macchina e siamo riusciti a portare poi i 2 giocatori a casa ovviamente lui non è un coach che vuole giocare con pochi giocatori ha bisogno di tutti poi, dipende anche dai momenti della partita, agli avversari abbiamo avuto situazioni incredibili in questa stagione, abbiamo giocato per tanto tempo con 7 giocatori abbiamo giocato la polonia, abbiamo giocato con 7 giocatori un'altra cosa che volevo chiedere, invece battagli anche oggi in questi 5 minuti soltanto un punto è un problema fisico, psicologico oppure tutto non è un problema perché non è un problema perché non è un problema perché non è un problema abbiamo avuto il gioco abbiamo avuto il gioco abbiamo avuto il gioco vedete che abbiamo scato 33 punti per la posizione di guardia non abbiamo avuto il gioco non abbiamo avuto il gioco non abbiamo avuto il gioco ma non è la prima partita era la seconda scuola è un problema la partita è successa non è parte del problema abbiamo avuto 33 punti del guardia è merito anche degli appiazzari non dobbiamo sottovoltarli hanno fatto una buona dipesa noi abbiamo avuto tanti altri punti per altri giocatori per me è il gioco sempre nel senso di tutti gli attivisti da sempre tu questo non importa per noi ci veniremo il trattamento per il difusore bisogna provare a migliorare sempre non è un problema singolo di battere dell'aspetto fisico e mentale ma anche degli avversari che l'hanno marcato bene ok, grazie 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 grazie